A coloro che si sentono falliti Carissimi, questa lettera la scrivo un po' anche a me. Sono convinto infatti che tutti nella vita ci siamo portati dentro un sogno che poi all'alba abbiamo visto svanire. Io per esempio mi figuravo una splendida carriera. Volevo diventare santo. Cullavo l'idea di passare l'esistenza tra i poveri intere lontane aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza sconti e testimoniando coraggiosamente il Signore risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse centrava più l'amore verso me stesso che l'amore verso Gesù. Comprendo insomma che in quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio. E' il difetto di quasi tutti i sogni irrealizzati, quello di partire con un certo tasso di orgoglio e il mio non era esente da questa tara di fabbricazione. Ciò non toglie però che ritrovandomi oggi in fatto di santità neppure ai livelli del mezzobusto mi senta nell'anima una grande amarezza. I destinatari comunque di questa lettera non sono coloro che come me sperimentano lo scarto tra le impennate illusorie dei sogni e il pianterreno prosaico delle piccole conquiste ma sono tutti quelli che non ce l'hanno fatta a raggiungere neppure gli standard sui quali normalmente scorre una esistenza che voglia dirsi realizzata. Amerigo, per esempio, che ha faticato tanto per laurearsi in medicina e immediatamente dopo la specializzazione ha dovuto accantonare ogni progetto di brillante carriera per un distacco irreversibile della retina. Ugo, ragazzo prodigio fino alla maturità classica che si è insabbiato nelle secche degli esami universitari e non è più riuscito a distaccarsene. Oggi ha 40 anni e sua moglie ad ogni lite gli rinfaccia davanti ai figli il fallimento di essersi ridotto a fare il dattilografo presso lo studio di un avvocato. Marcella, a cui tutti preconizzavano un futuro carico di successi e che dopo i corsi di perfezionamento in pianoforte all'Accademia Chigiana di Siena ha avuto decine di occasioni per affermarsi ha rifiutato tanti partiti uno meglio dell'altro alla fine si è messa con un uomo divorziato che è fallito e ha dovuto vendersi il pianoforte a coda che le aveva comprato suo padre. Lucia, che straripava di entusiasmo e voleva diventare missionaria in primavera sfogliava le margherite per leggervi presagi di felicità ma poi non è partita perché i suoi l'hanno ostacolata. Ora margherite non ne sfoglia più ed è finita a fare la commessa in un negozio di articoli da regalo. Ecco, a tutti voi che avete la bocca amara per le disillusioni della vita voglio rivolgermi non per darvi conforto col balsamo delle buone parole ma per farvi prendere coscienza di quanto siete omogenei alla storia della salvezza. A voi che cammin facendo avete visto sfiorire a uno a uno gli ideali accarezzati in gioventù. A voi che avreste meritato ben altro ma non avete avuto fortuna e siete rimasti al palo. A voi che non avete trovato mai spazio e siete usciti da ogni graduatoria e vi vedete scavalcati da tutti. A voi che una malattia o una tragedia morale o un incidente improvviso o uno svincolo delicato dell'esistenza hanno fatto dirottare imprevedibilmente sui binari morti dell'amarezza. A voi che il confronto con la sorte felice toccata a tanti compagni di viaggio rende più mesti pur senza ombra di invidia. A tutti voi voglio dire volgete lo sguardo a colui che hanno trafitto. La riuscita di una esistenza non si calcola con i parametri dei fixing di borsa e i successi che contano non si misurano con l'applausometro delle platee o con gli indici di gradimento delle folle. Da quando l'uomo della croce è stato issato sul patibolo quel legno del fallimento è divenuto il parametro vero di ogni vittoria e le sconfitte non vanno più dimensionate sui fischi che si rimediano o sui naufragi in cui annegano i sogni. Anzi, se è vero che Gesù ha operato più salvezza con le mani inchiodate sulla croce nella simbologia dell'impotenza che con le mani stese sui malati nell'atto del prodigio vuol dire, cari fratelli delusi, che è proprio quella porzione di sogno che se ne è volata via senza mai realizzarsi a dare ai ruderi della vostra vita come per certe statue mutile dell'antichità il pregio della riuscita. Non voglio sommergervi di consolazioni voglio solo immergervi nel mistero nella cui ottica una volta entrati vi accorgerete che gli stralci inespressi della vostra esistenza concepita alla grande le schegge amputate dei vostri progetti iniziali le inversioni di marcia sulle vostre carreggiate mai divenute carriere non soltanto non sono inutili ma costituiscono il fondo di quella cassa depositi e prestiti che alimenta ancora oggi l'economia della salvezza. A nome di tutti coloro che ne beneficiano vi dico grazie.